Mi sembra che su questo terreno, al di là di alzare il tiro, abbassarlo, sparare in aria, spararsi su un piede, varianti varie, c'è un percorso che è stato indicato qui proprio alla Camera dal Presidente Enrico Letta quando ha preso la fiducia. Nel senso cioè, intanto blocchiamo l'Imo per quello che riguarda la rata di giugno. Dopodiché guadagniamo del tempo, ci si mette intorno a un tavolo e si vede tutto il sistema fiscale che deriva anche dai problemi che ci vengono posti a livello da una parte dell'Ocse, dall'altra parte dell'Unione Europea, eccetera. L'esigenza di fare un punto da parte del Governo per trovare un punto di iniziativa c'è. altrettanto netto deve essere il fatto che noi blocchiamo la rata dell'Imo perché, come tutti sanno, a questa tematica il PDL attribuisce una straordinaria importanza. Grazie.